Questa volta nella parte alta della città, in Piazza Grande, nell'ottica di distribuire gli eventi un po' in tutto il centro storico e per protagonista la straordinaria proposta dei macellai e dei panificatori della provincia di Arezzo. Piazza Grande è stato circa 100 anni fa l'antico teatro dei macellai e del mercato alimentare e quindi direi che questo ritorno alle origini per cercare di riprendere le fila di un mercato così alimentare, del luogo, del nostro territorio per valorizzare quelli che sono i nostri macellai e la nostra territorialità è veramente tornato a casa. Dopo 8 anni, 9 anni che si ripete le piazze del gusto, la piazza in questo caso, credo che noi il nostro obiettivo principale è cercare di essere all'attezza della piazza, che è una delle più belle d'Italia, quindi portare il meglio che c'è nell'eccellenza dei prodotti alimentari della provincia, quelli che facciamo da noi e la nostra carne insomma. Allora, noi faremo due cooking show, uno il sabato e uno la domenica, dalle 5 e mezzo alle 6 e mezzo, con dei piatti del territorio, tutte e due le serate saranno tutti piatti diversi, faremo vedere dai primi, dai dolci, dai secondi piatti, tutte cose molto veloci da poter rifare tranquillamente, insomma anche in pochi minuti. Grazie. Grazie.